ciao ragazze ciao a tutte e a tutti nuovo video acquisti ho quello scontrino alla mano ho fatto due acquistini in questi giorni e ho comprato da megastore shanghai che non ricordo che il nome del negozio comunque vabbè ho pagato in contanti e ho speso 25,80 euro centesimi allora non so se si vedrà mai ma questo è lo scontrino cosa ho speso cosa ho preso anzi ho preso una faccetta che ho già riempito vedete 5,90 bellissima adoro è stupenda poi aspettate ho preso questa questa bellissima questo bellissimo zainetto mi piace da matti è bellissimo lo scelto di questo colore perché ce n'erano altri ma non mi piacevano più ho preso questo anzi ho preso questo che era molto più bello e niente ragazzi è stato secondo torno subito allora ho speso questi soldini perché mi sapeva di fare questo video non perché mi sapeva più che altro per il prospizio mi ha preso un altro zainetto ce n'è una verde dietro lì e ne ho preso uno nero perché mi piaceva di più del verde vabbè lo commento c'è a vedere che è meglio e ho speso derivato il disco 25,80 centesimi 26 più o meno quando siamo lì poi gli atto mette sì io alla commessa della shanghai store e non mi ricordo il nome da negozio c'è scritto qua ma non riesco a leggerlo comunque questo questo qua bellissimo questi tutti questi prodotti ho preso una pochette mi metteci i miei soliti trucchi e più niente allora lo zaino costava 19,90 mentre la pochette costava 5,90 fantastico e niente poi come state spero bene domani fare un altro video ovvero morning routine più cosa mangiare un giorno non so se ci riuscirò a farlo ci provo e se riesco a farlo mi farò un mini non proprio monica routine qualcosa di più carino diciamo ma farò pezzetti domani sarò fare altre cose quindi non so cosa riuscirò a fare vediamo se mi riesci di farlo e se riesco a farlo non è detto e se riesco a entrare sul mio canale youtube perché tante volte mi si blocca l'accesso non so il perché comunque va bene niente io sto bene spero che voi siate bene e basta questo era tutto breve video ma piccolino e ci vediamo al prossimo video mettete un bel like di supporto un commento e al prossimo video ciao ciao